Le emissioni maleodoranti di Falconara, oggi nuova udienza del processo ai vertici dell'azienda Bufarini specializzata in trattamento dei rifiuti. Ci aggiorna Francesco Monti. Buongiorno dal Tribunale di Ancona. Si avvia la conclusione del processo per inquinamento ambientale e getto pericoloso erodicose a carico della Bufarini, azienda di Castelferretti specializzata in trattamento e stoccaggio di rifiuti e spurgo di fosse biologiche. Un procedimento nato da una serie di denunce dei cittadini su cattivi odori nella zona. Quella di oggi dovrebbe essere l'ultima udienza prima della discussione. Sarà sentito un consulente tecnico della difesa della società, società a cui la procura di Ancona attribuisce una responsabilità amministrativa. Gli imputati sono l'amministratore unico dell'azienda Matteo Caimmi e il direttore tecnico Giordano Bufarini. E sono proprio le perizie il nodo fondamentale del processo. Il consulente chimico dell'accusa e quello delle parti civili hanno individuato una serie di sostanze responsabili degli odori sgradevoli avvertiti dai residenti di Castelferretti, mettendone in correlazione la presenza proprio con le emissioni dell'azienda. Tante le denunce dei cittadini tra il 2015 e il 2018. Quelli che effettivamente si sono costituiti parte civile sono sette. La loro legale Emonia Mancini per ora ha quantificato in 60.000 euro la richiesta di danni tra patrimoniali e non patrimoniali. I cittadini lamentano infatti una perdita di valore delle loro abitazioni, ma anche una limitazione della qualità della vita. Parti civili, anche il Comitato Onda Verde e il Comune di Falconara. E per il momento è tutto, lì nello studio.